Cucurumalu, stop. Isola di Sardegna, stop. Identificata esistenza di individuo, di identità non identificata che ha ca... Qualcuno si è impossessato della luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare? Allora, mandatemi subito una copia del documento e poi rimettetevi a pensare a quello che stavate pensando prima. Cucurumalu, I understand. We'll look into it immediately. I appreciate that, Mr. Baralone. We should treat this matter very delicately. We found it! We own it, goddammit! Put me through right away to the local operating branch! Ah, la luna. Un altro satellite. Je crains tuttfoi qu'il y ait un'incomprension de natura geografica. Oh là là, non, c'est la Corsa! Per la Sardegna, vous devez vous adresser au référent italien. E qual è il problema? C'è pensiamo, no? Don't worry. Naturalmente, Eminenza, e posso assicurare che mi occuperò della cosa in prima persona. Non mancherò. Grazie. Sono io che la ringrazio, Dottor Badaloni. Abbiamo risolto tanti problemi insieme su questa terra. Con l'aiuto di Lio risolveremo anche quelli degli aspere celesti. Per l'aspera d'astra. La revedere. On è pronto. Da. Il nostro livello. Si botte unحد. Squareいる Noise. Vobiare.